durante il nostro lavoro con le particles può capitare di dover far seguire alle particles una determinata traiettoria non sempre questa operazione risulta semplice specialmente quando si utilizzano sistemi più avanzati ma all'interno di 3dx max specialmente con i sistemi basilari abbiamo a disposizione uno space warp molto comodo di fatti se noi abbiamo un percorso in questo caso una spirale e un nostro emettitore un super spray per esempio il quale vediamo che ha la sua emissione di questi cubetti totalmente diritta ma potremo anche variarne il percorso ma vogliamo far sì che questa emissione sia disposta su questa nostra shape per far questo dobbiamo andarci a generare uno space warps path follow e creare l'icona notiamo che il path follow dai suoi parametri che sono molto basilari abbiamo la possibilità di scegliere quindi di fare il peak shape object che vuol dire la forma che vogliamo associare abbiamo la possibilità di scegliere anche quello che riguarda il motion timing e come saranno disposte le nostre particelle oltre alla possibilità di variare anche la loro disposizione sia per quanto riguarda l'andamento se orario o anti orario o bidirezionale oppure anche di rotazione su il nostro percorso stesso per associare naturalmente il nostro emettitore al nostro space warps abbiamo bisogno di selezionare il nostro super spray e bind space warps per linkarlo a questo punto se io vado a correre nella timeline vedrò che le mie particles saranno generate in base al mio percorso naturalmente notiamo che non sono precisamente nella posizione ideale per risolvere questo primo aspetto abbiamo due metodi o quello di far scorrere quindi di portare il nostro emettitore comunque all'inizio della nostra shape e vediamo che vengono generate con una distanza non propriamente come se fossero generate step by step per migliorare questo effetto andiamo nel nostro path follow andiamo a impostare il timing del travel quindi sarà in 100 frame avremo questa nostra disposizione possiamo portarlo anche abbassarlo anche 50 va più che bene poiché in 50 frame saranno percorsi sarà percorsa questa distanza last frame 100 che bene ok possiamo andare a variare creare una variazione naturalmente dipende anche quando moriranno le nostre particles andiamo a vedere nel super spray super spray emitter lo lasciamo finire a 100 così avremo l'emissione e la vita anche delle particles a 100 avremo un'emissione continua dobbiamo però andare a giocare allora con vari parametri che abbiamo a disposizione che abbiamo a disposizione il teleballo sarebbe in eccesso e continueranno via via quindi portiamola al 150 per il nostro esempio va più che bene possiamo anche variare naturalmente se posizionarli propriamente sopra l'offset della nostra spline possiamo assegnare una velocità costante possiamo avere un effetto di tape possiamo lavorare sulla divergenza su entrambe possiamo assegnare un effetto di di rotazione e di aspirare ancora di più su le nostre particles noi andiamo a aumentarle potremo anche invertire il senso di rotazione oppure averlo bidirezionale possiamo anche assegnare un ordine in base a un seed questo stratagemma è molto molto comodo se vogliamo realizzare degli effetti basilari oppure degli effetti semplici in cui dobbiamo far sì che le nostre particles seguano un percorso e non abbiamo molto tempo a disposizione per elaborare altre strade alternative sicuramente è una via molto comoda grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti